Ciao bibliafili, sono Gabriella, bentornati sul mio canale. Oggi vi porto un video che unisce in realtà due tipologie di video che di solito porto sul canale. Il book haul è il video dedicato ai regali di Natale. Per evitare di fare più video, ho deciso di unire al book haul degli ultimi due mesi, quindi dicembre e gennaio, al video dei regali di Natale. Quindi sono qui pronta per mostrarvi inizialmente i regali di Natale non libreschi, e tanto sono solo due tipologie diverse, poi passiamo ai libri, quindi vi mostro prima i regali e poi tutti i miei acquisti fra dicembre e gennaio, in particolare non dicembre, perché a gennaio mi sono alquanto contenuta. Quindi direi di cominciare, cominciamo con i regali di Natale, però non i regali di Natale che hanno a che fare con i libri. Per quanto riguarda gli autoregali, che secondo me sono sempre importantissimi, mi sono fatta degli autoregali che riguardano il mondo del make-up, quindi non so quanti possa interessare questo, però sarò abbastanza veloce nel spiegarvi il tutto. Essenzialmente qui a Bari ha aperto il Clio Pop-up, quindi il negozio di Clio Make-up, che io seguo da sempre, l'adoro, ho sempre voluto provare i suoi prodotti, però volevo vederli dal vivo. Quindi speravo sempre che il Clio Pop-up, quindi un negozio temporaneo, arrivasse anche a Bari. Finalmente è arrivato dal 16 dicembre e sono stata due volte lì, essenzialmente mi sono fatta degli autoregali per Natale, mettiamola così. E quindi ho acquistato quattro rossetti liquidi e due ombretti cremosi. Per quanto riguarda gli ombretti cremosi ho preso questi due, il Frappé Rosé e il Graceful Grasse, uno più sul dorato e uno sul rosa, questi due. Adesso indosso il Frappé Rosé punto e rosa e mi fanno impazzire, infatti ne voglio comprare altri due. Uno sul dorato un po' più chiaro, il creamy cappuccino e uno il candy wrap che invece, come dire, sul lilla, mettiamola così. Però lilla molto chiaro e mi fanno impazzire, cioè davvero stanno su tutto il giorno. Diamo. Dopodiché mi sono presa quattro appunto rossetti liquidi. Adesso indosso il... oddio, qual è un messo stamattina? Credo questo. Il Clio Confidential, questo qui, è quello che indosso in questo momento. Lo amo. Ma in realtà mi piacciono tutti e tre, cioè sono tanto tanto contenta. Singer sta giocando se vedete cose che si spostano dietro. Dopodiché ho preso il My Lips Bad Better, che è più sul rosa. Il Mama Yesh, che è fra il rosa e il rosso, è un altro che mi fa impazzire. E la Statenaut List, il più scuro, 1982. Rosso più scuro. E mi fanno letteralmente impazzire. Devo dire che la durata non è delle migliori, sono onesta. Nel senso che se mangi cose oleose, ciao, se ne vanno. Però comunque mi piacciono un sacco i colori e se stai attenta comunque rimangono addosso. Sulle labbra, quanto meno, insomma. Non sono molto brava a parlare di make-up. Però vorrei, insomma, prenderne altri due o tre anche di questi. Infatti sto aspettando che siano di nuovo disponibili sul sito tutti questi prodotti che voglio, perché farò l'ordine. Da lì, in questo caso, perché credo che il negozio a Bari stia per chiudere, non lo so, non so se avrò il tempo di ripassarci, vorrei prendere il Nude Sunday, che è più sul marroncino chiaro, il Contè, sempre sul rosa però più chiaro, il Move on Me, che va vira verso il fucsia, però non è proprio fucsia, e quei tre mi piacciono un sacco. Quindi prenderò, mi farò un altro autoregalo, in questo caso, mettiamola così per San Valentino, non lo so, di altri tre rossetti, altri due ombretti, perché mi fanno letteralmente impazzire. Quindi questi i miei autoregali natalizi. Prima di passare ai libri, c'è poi la componente, come sempre i miei vicini molto educati, silenziosi e rispettosi, perdonatemi se sentite rumori. Anyway, dopo il make-up, passiamo alla parentesi giochi da tavola, perché a quanto pare tutti o quasi i miei amici e parenti hanno capito che non so che ho bisogno di giochi da tavola, perché due mie amiche, Anna e Charlie, mi hanno regalato questa meraviglia. Harry Potter Hogwarts Battle, un gioco collaborativo di deck building. Ho visto come si gioca anche tramite dei video, perché comunque non è semplice, mettiamola così, ma non ho avuto ancora modo di giocarci effettivamente con qualcuno, però non vedo l'ora perché poi ci sono tanti modi in cui si può giocare, ci sono otto tipologie, insomma, di mazzi e, insomma, bisogna sconfiggere i cattivi e mi piace un sacco poi il modo in cui è fatto, le carte che ci sono dentro e io lo adoro, devo ancora però giocarci per bene. Sempre alla stregua invece di giochi da tavola di Harry Potter, le mie amiche di sempre mi hanno regalato questo e ci abbiamo giocato insieme la stessa sera e poi ci ho giocato altre due volte con Fabio ed è il Trivial Pursuit di Harry Potter ed è stupendo perché appunto ci sono domande che riguardano in realtà i film e vanno da quelle più semplici a quelle più difficili, cose che neanche io so e sapete, insomma, come funziona Trivial Pursuit, l'ho adorato questo gioco, non vedo l'ora di giocarci ancora. Mentre mia sorella mi ha regalato questo Dixit che io volevo da tantissimo tempo perché ci ho giocato a casa di amici e quindi me l'ha comprato, insomma, praticamente senza mettersi d'accordo un po' tutti hanno deciso di regalarmi questi giochi da tavola e mi hanno reso felicissima. Prima di passare ai libri e quindi agli acquisti, ai regali, agli acquisti libreschi, sono qui per parlarvi però di gioiellini, in particolare in modo di una collaborazione collaborazione con Happiness Boutique che mi ha mandato questi due gioiellini in queste scatoline e sono stati veramente molto molto gentili, come sempre, nel cominciare questa collaborazione e sapete che appunto non è la prima volta che mi trovo molto bene con Happiness Boutique tant'è che questa collanina che indosso sempre è dorata e l'oro è praticamente non la tolgo mai questa volta ho collaborato per altre due collanine molto molto belle quindi li considero anche questi degli autoregali, mettiamola così questa qui con il cuoricino eccolo, metterà mai a fuoco, eccola qui mi piace un sacco e un'altra più semplice che metterò nei prossimi giorni che è semplicemente una collana dorata però un po' più spessa rispetto a quella che ho io in questo momento e mi piacciono un sacco tutte e due Happiness Boutique è appunto questo negozio vi lascerò il link del negozio qui sotto così come nell'info box c'è sicuramente il codice sconto quanto dura, quanto sconto vi dà perché al momento non lo so ancora però me lo diranno in questi giorni e lo inserirò nell'info box quindi tenete ad occhio l'info box per Happiness Boutique per vedere il sito, il link, il codice sconto quanto dura, quanto sconto vi dà, eccetera eccetera io mi trovo buonissimo con questi gioiellini detto ciò passiamo ai libri innanzitutto parliamo dei regali di Natale parliamo dei regali di Natale iniziando da il dono che non mi aspettavo di ricevere da una ragazza che mi segue ho qui infatti con me il bigliettino di Nel mondo incantato DS ora non ricordo il nome che mi ha fatto questo dono guardando la mia wishlist di Amazon è stata dolcissima e mi ha preso questo qui il Grimorio guardate che bella la cover è stupenda Grimorio di appunto AB Editore a cura di vari autori che parla appunto del mondo della magia delle streghe non solo ed è ricco di illustrazioni approfondimenti su tanti tanti insomma elementi che riguardano appunto il mondo paranormale stregonerie incantesimi ma un bigliettino ma tanti altri comunque ed è stata gentilissima non dovevi ma ho apprezzato un sacco della stessa casa editrice della stessa collana prima o poi comprerò anche Follettiana assolutamente dopodiché la mamma del mio ragazzo ha voluto farmi un regalo ovviamente guidata dalla mia wishlist anche in questo caso e mi ha preso Laura Olympus di Rachel Smith Nuova in città il primo capitolo in cartaceo di Laura Olympus che ho amato ho letto e ho amato è stata la prima lettura di quest'anno prima e unica al momento però l'ho amato tantissimo e sono tanto tanto contenta di averlo letto mi piace immensamente non vedo l'ora di andare avanti in realtà sto andando avanti seppur lentamente su webtoon dove comunque l'autrice continua a appunto mettere gli aggiornamenti però appunto mi piace un sacco questa rivisitazione delle divinità greche in un mondo un po' più particolare un po' più moderno e amo che sia per lo più incentrato su Ade e Persephone li amo tantissimo la mia amica Maria Rita mi ha poi regalato dei manga e non vedo l'ora di leggerli penso saranno delle prossime letture mi ha preso dei manga che volevo io si è ricordata che volevo leggere questa duologia insomma di manga ovvero Giocella Triglia e i pesci coppia di manga che in realtà io avevo visto da Chibis The Way ne ha parlato molto bene quindi mi ha incuriosito tantissimo anche perché si parla di disabilità e mi ha regalato appunto questi due manga insieme invece a questo qui che è super consigliatissimo in realtà come autore proprio in generale Shinkai Makoto Shinkai è molto consigliato però a quanto pare si soffre non poco quando si leggono le sue storie quindi aiuto però Maria Rita è stata dolcissima nel regalarmi appunto Il Giardino delle Parole è Giusella Tighe e i pesci io sono molto nel mood manga ultimamente quindi mi ha reso felicissima e la ringrazio ancora è stata tanto dolce l'aspetto not least per quanto riguarda i regali di Breschi perché poi arriviamo ai miei acquisti che sono comunque tanti la mia book squad la mia book squad più Ludovica e Maria Cristina mi hanno regalato ben quattro libri le pazze allora iniziamo con For the Wolf che sarà una delle prossime letture perché mi ispira un sacco l'ha letto già da lei è piaciuto molto di Anna Witten che è un retelling di Cappuccetto Rosso con qualche vibes da Beauty and the Beast quindi capite bene che io devo leggerlo per forza e sarà una duologia dopodiché mi hanno preso Irish Fairy Tales e sono state carinissime perché è un libricino che volevo un sacco anche perché fra le fairy tale fra le favole irlandesi c'è anche quella dei sei cigni da cui viene la figlia della foresta Six Crimson Cranes che è ormai una delle mie favole preferite e non solo ed è un libricino troppo bello di cui ho anche quello dedicato alla Scozia che fu un dono di uno di voi dello scorso anno ed è veramente veramente bello anche questo qui poi mi hanno regalato il nuovo fra virgolette libro di Robin Hob che sarebbe una sorta di prequel della trilogia dei lungavista quindi la principessa testarda il principe pezzato nel regno degli antichi sono curiosissima di leggerlo però lo leggerò più in là insomma devo prima finire la trilogia quantomeno principale dei lungavista quindi l'apprendista assassino e compagnia e last but not least mi hanno preso Passportin che è stato una delle letture migliori del 2021 mi è piaciuto un sacco di Margaret Rogerson la cover mi fa impazzire c'è anche nera però anche questa qui bianca mi piace tantissimo e niente è bellissimo è stupendo e loro sono pazze perché appunto mi hanno regalato ben quattro libri della mia wishlist quindi a livello di regali mi è andata veramente molto 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 bene sono molto contenta ma andiamo avanti andiamo avanti con i miei acquisti allora come sapete stavo collezionando alcuni dei libri della collezione RBA dedicati alle regine e le donne ribelli nella storia in realtà ho concluso così la mia collezione perché nel mese di dicembre sono riuscita a insomma recuperare due uscite che mi ero perso ovvero Elisabetta Prima e Caterina Sforza questi due e nel mese di gennaio sono stata tanto contenta di riuscire a recuperare quello per cui avevo iniziato praticamente questa raccolta ovvero Maria Stuarda che è appunto una figura storica che mi ha sempre affascinato tantissimo complice anche della serie tv Reign però non importa però è stato l'ultimo che ho preso perché comunque ho visto poi le prossime uscite e sebbene ci siano alcune figure femminili molto belle direi anche basta ne ho collezionate un bel po' sono tutte lì accanto a me e ho recuperato però questi tre libri negli ultimi due mesi prima di passare ai libri direi di vedere i manga per prima cosa vediamo i manga che sono un bel po' allora per prima cosa ho letto e amato e quindi comprato anche se poi sono stati anche dei doni facendo un attimo ordine perché qua sto impazzendo allora io personalmente ho comprato i primi due volumi dei diari della speziale e l'ho amato immensamente è un altro manga che sto amando tantissimo questi li ho presi a dicembre il primo volume e il secondo dopodiché un ragazzo fra di voi mi ha regalato il terzo e il quarto volume ed è stato dolcissimo anche in questo caso di che effettivamente anche questi possono essere considerati i regali di natale e lo ringrazio ancora immensamente e sono questi due anche qui dovrei avere il bigliettino aiuto donna che è macello questi manga con la sovraccoperta comunque eccolo il bigliettino Simone Maggiore sì mi ha regalato questi due volumi ed è stato dolcissimo anche perché io davvero questa storia la sto amando veramente immensamente non me l'aspettavo sinceramente di amarla così tanto però i diari della speziale mi sta piacendo un sacco quindi questi in realtà sono arrivati a dicembre e nel frattempo io ho acquistato cioè in realtà non l'ho acquistato io essenzialmente il mio ragazzo è andato in fumetteria e quando io non potevo mentre ero al lavoro ha preso tutti i manga che erano nella mia wishlist di Amazon e mi ha preso il quinto volume che devo ancora leggere sarà una delle prossime letture e non vedo l'ora è troppo bello dopodiché a dicembre io ho recuperato il settimo volume di Fullmetal Alchemist e ovviamente l'ho anche letto e adorato mentre nel mese di gennaio appunto il mio ragazzo mi ha recuperato l'ottavo volume non vedo l'ora di leggerlo e in fumetteria mi ha recuperato anche il secondo volume di Inuyasha quando vedrete questo video sarà già uscito anche il terzo addirittura è il terzo volume di Free Aaron un'altra storia nuova che mi sta entusiasmando un sacco mentre Inuyasha l'ho letto lo conosco eccetera Free Aaron ieri era speziale ma anche Fullmetal Alchemist che per me è nuovo mi stanno piacendo immensamente quindi questi wait i recuperoni manga fra dicembre e gennaio fermatemi perché questi manga mi stanno mandando in povertà andiamo avanti perché nel mese di dicembre ho acquistato Hilahara che al momento è la mia attuale lettura ma lo sto finendo e spero in crociolizza di finirlo proprio oggi mentre sto registrando questo video per me è fine gennaio quindi spero di terminarlo Hilahara di due ragazze italiane che però l'hanno scritto in inglese l'hanno scritto divinamente mi sta piacendo un sacco loro si chiamano C.M. Caris sono Chiara e Maria se non ricordo male ragazze perdonatemi se ho sbagliato i vostri nomi ma penso di no ed è un libro veramente perfetto se avete amato saghe come Akotar ma anche Il trono di spade Il trono di ghiaccio si parla di draghi di intrighi politici di una ragazza che è stata strappata al suo destino alla sua famiglia e deve ritornare a prendere le reddine della sua vita e non solo c'è veramente tutto ciò che amate negli young adult fantasy se amate i draghi Ilara fa per voi non vedo la definirlo e parlarvene ho poi acquistato invece Furie di Alfonso Zarbo che molti di voi conosceranno perché lavora per Oscar Walt Mondadori però ha voluto scrivere questo libro pubblicandolo tramite Amazon ci sono vari racconti appunto storie fantasy di donne ribelli io ho avuto la fortuna l'onore di leggere in anteprima un paio di storie proprio Furie all'inizio e poi se non ricordo male l'ultima storia presente qui wait che vi dico anche come si chiama la fine della storia sì Lombardia XII secolo e poi ce ne sono altre dedicate alla mitologia greca oppure alla Spagna dei conquistadores che devo ancora leggere però ho voluto acquistarlo perché mi ha ispirato moltissimo e mi piace molto come scrive Alfonso non solo legge divinamente quando legge il suo scarmolte all'inizio di alcuni libri ma scrive anche molto bene la cover invece è stata disegnata dalla sua compagna moglie non ricordo perdonatemi però bellissima anche la cover e sono stata tanto contenta insomma di prenderlo è molto molto bello ve lo consiglio lo trovate appunto su Amazon Furie dopo di che ho acquistato The Bone Shard Emperor perché appunto è il sequel di The Bone Shard Daughter uno dei libri che Epic Fantasy e High Fantasy che più mi è piaciuto negli ultimi anni ed è una trilogia questo è il secondo volume devo ancora leggerlo però non vedo l'ora anche qui c'è una mappa meravigliosa e mi è piaciuto un sacco il primo libro se mi ricordo vi metto nelle schede il wrap up in cui vi parlai appunto del primo libro perché secondo me merita più successo veramente è un peccato che non leggono in così poche persone perché c'è veramente tanto tanto in questo Epic Fantasy molto bello a me è il primo è piaciuto un sacco spero che questo secondo non mi delude non abbia la sindrome del libro di mezzo e il terzo si chiamerà The Bone Shard War una cosa del genere che angoscia però non vedo l'ora vi giuro non vedo l'ora spero che questo semi blocco del lettore vada via e poi ho fatto un grande recuperone comprando l'impero d'oro di S.H. Akraborty terzo e ultimo libro della trilogia di Devabad che è una delle mie trilogie preferite vi prego leggete La città di Ottone perché non ve ne pentirete l'ho acquistato perché appunto dovevo terminare la trilogia per forza dovevo averla anche in italiano andiamo avanti perché ci sono altri 4, 5, 6, 7 8 libri che vi devo mostrare tutti che vengono da Bookish Box allora il primo che vi mostro è l'unico che riguarda la Lit Joy Create l'ho spacchettata proprio ultimamente qui con voi e sto parlando di Dreams Live in Earth di Rebecca Ross libro molto bello in edizione speciale che parla di incubi e di sogni di un'autrice che mi piace molto perché ho letto gli altri suoi libri che sono presenti anche in italiano La Regina del Nord e Sorelle di Spada e qualcosa Sister of the Sword and Song non mi ricordo in italiano e non vedrò di ragione anche questo perché come autrice ripeto mi piace molto mi piace il fatto di avere questa edizione speciale appunto della Lit Joy trovata nell'ultima box autunnale Magician's Jewel passiamo poi all'Illumicrate perché mi sono arrivati tre libri quindi due in una box wait due in due box quindi questo era nella box di dicembre è Marvelous Light molto bella l'edizione veramente stupenda eccola qui ed è ambientato nella Londra Edwardiana se non ricordo male parla di magia di due ragazzi che si innamoreranno quindi sono molto curiosa questo invece era quello di novembre che però mi è arrivato a dicembre Little Thieves stupenda ma tra l'altro è stupenda la sottocoperta che è fatta in questo modo ed è disegnata dalla stessa Margaret Owen la autrice ed è molto bello perché parla di una essenzialmente se non ricordo male una serva che prende l'identità della principessa mi ispira veramente un sacco poi la cover mi fa impazzire e per quanto riguarda l'Illumicrate io poi ho preso a parte dalle box The Hollow Heart durante il Black Friday perché era in sconto in quanto io avevo The Mean Lie Lie trovato in una box e questo è un'autologia ho preso quindi il secondo volume per averlo nella stessa edizione ed è veramente molto bello della stessa autrice di The Winner's Course quindi l'ideologia si legge dopo The Winner's Course molto bello molto molto bello il libro la cover mi piace un sacco ma anche i colori molto bello passiamo alla Fairyloot ultimi 4 libri gli ultimi 2 li avete visti ultimamente sono tornata proprio su Youtube dopo un po' di assenza spacchettando la Fairyloot e nella Fairyloot di dicembre c'erano sia The Coldest Touch di Isabel Sterling una paranormal romance con i vampiri e una storia d'amore fra due ragazze onestamente non mi interessa leggerlo neanche un po' la cover originale nel senso speciale per la Fairyloot non mi ispira però c'è invece poi The Year of the Reaper che invece mi ispira molto un'edizione molto bella della Fairyloot che non vedo l'ora di leggere perché appunto mi ispira moltissimo vedremo però bene anche qui si parla di guerra di poteri magici sono curiosa e io poi a parte questo però mesi e mesi fa però finalmente mi sono arrivati ho comprato due libri Kingdom of the Cursed quindi il secondo libro di Kingdom of the Wicked di Regno dei Cattivoni o il Regno dei Malvagi che è uscito in inglese l'edizione è stupenda ovviamente Fairyloot fa dell'edizione sempre incredibilmente bellissime e no non so quando uscirà in italiano non me lo state chiedendo in tanti non lo so eccolo e last but not least Our Violent Hands uno dei libri più belli che ho letto lo scorso anno anche qui edizione speciale della Fairyloot stupenda meravigliosa con Roma e Juliet qui dietro duologia che uscirà in italiano quest'anno per Mondadori meraviglioso ebbene siamo giunti alla fine questo è il book haul degli ultimi due mesi insieme ai miei regali di Natale spero vi sia piaciuto come video vi abbia tenuto compagnia sia stato in qualche maniera positivo fatemi sapere un po' cosa ne pensate io vi ringrazio se siete arrivati fino a qui grazie per ogni commento like condivisione iscrizione noi ci vediamo al prossimo video ciao